se c'è una cosa un po compromettente la censura sopprime le parole la commedia disgraziatamente andrà in scena tanto più che a recitarla c'è un imbecille come me e a scriverla un amico mio con il cervello a prezzi popolari e la logica in sciopero ma io vi garantisco che farò di tutto per annoiarvi grazie a tutti grazie a tutti